Sì, perfetto, laddove non può la tecnica ci pensa, la voce, la televisione. Seguro la busta più corto bene, andiamo ad aprire. Vuoi aiuto? E' ricchissimo la scuola. Ma non ci posso credere. Ma questa è una lettera di padre Carlo Salerio, che è uno dei sette visionari che poi sono parte della missione del filo di Pappo Novo Binea. Allora dice, cari fratelli, sono arrivato finalmente a destinazione dopo oltre due mesi di navigazione. Qui tutto bene, anche se non sembra di essere nel 1852. Ma questa lettera è un documento di importanza storica straordinaria. Cioè, 1852, e la leggiamo ora! Ma vi è dato tanto bene. Ehm! che è andato un tanto 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 il voluto viaggio, e passano a vedere. E' arrivata a vedere. E' arrivata a vedere. Quanto a voi lei per essere un video. Ma adesso sarà da vedere. Vieni a vedere! Cos'è andato? Vieni a vedere! 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 Questa conferenza da mettere iniziana nel dentro sul sito. la connessione qui è un po' lenta ma grazie alle parabole riusciamo lo stesso a capirci spero di ricevere presto notizie da voi scrivetemi pure l'indirizzo carlosallerio chiocciola e moltrentialtreinsettimiano.com il vostro padre Carlo Salerio va bene, indageremo la scientificità di questa lettera grazie